Lavorando sulle relazioni internazionali di un paternariato del 2013 con la regione polacca di Wilpowska, la pubblica amministrazione di Imola ha attivato da circa un anno una collaborazione con Piwa, creando un tavolo di lavoro a 360 gradi. Il progetto ha consentito di promuovere in Polonia il turismo romagnolo e il settore enologico, agevolando l'impresa locale nell'apertura del mercato in nord Europa. Credo che il nostro compito sia quello di aprire delle strade, di offrire delle opportunità ai nostri imprenditori, ai nostri operatori economici. Uno dei nostri produttori del territorio ha partecipato alla fiera dell'agroalimentare a Poznan nel settembre scorso. Loro ci hanno invitato a partecipare a un progetto europeo a cui hanno partecipato sette nazioni europee, fra cui Imola. Adesso siamo andati con la società di promozione turistica del nostro territorio, IF, e con un altro produttore del nostro territorio, proprio per promuovere la presenza delle nostre eccellenze in Polonia. L'amministrazione comunale di Imola ci ha dato l'opportunità di metterci in contatto con l'amministrazione comunale di Piwa e l'amministrazione comunale di Piwa ci ha dato la possibilità di incontrare importatori di vino del proprio posto. E questo ci sta iniziando ad aprire un bellissimo mercato.